Ma diciamo che è una malattia non rara, ha una frequenza importante, parliamo dello 0,7% della popolazione, quindi circa 10.000 sardi, 8-10.000 sardi, può colpire i bambini in età pediatrica, i giovani adulti, è la terza età e sono delle malattie che a seconda dell'età di insorgenza si manifestano e decorrono in maniera diversa. Le donne si ammalano più frequentemente, c'è un rapporto 4 a 1 con gli uomini, quindi è una malattia davvero variegata che va vista nel suo insieme.